grazie mille baldo ti voglio bene cuoricione grazie del regalo grazie grazie mi raccomando supportatelo baldo canale zoro sugli ammi raccomando pacchetto di cn kid danger baldocalia canale di nome zoro e lo trovate su youtube dei miei canali primo piano andiamo ad aprirlo ma è sicuramente il deltaplano ecco qua che non mi era arrivato mello killer molto molto bello e a me piace un sacco grazie vado grazie 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 vado io mi sono preso la skin perché a me piaceva un sacco quindi mi piaceva la scrive la sono me la sono scioppata grazie mille valdo e ovviamente avevo già il balletto e quello qua ragazzi grazie grazie mandati voglio avere buona giornata mi raccomando lasciate un like e se volete supportatemi con il super grazie da due euro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti